Oggi nel mondo 37 milioni di bambini non possono andare a scuola a causa della guerra. Sono minori che affrontano un futuro senza speranze. Perché la guerra distrugge le scuole, uccide gli insegnanti. Produce popolazioni di sfollati e eserciti di bambini e soldati. Aiutiamo Save the Children a riscrivere il futuro. Save the Children, parado, scrivere. Pensate al grande diario, se questa matita... Forza, aiutiamo Save the Children.